Ciao a tutti, sono Giovanna Di Prisco, vengo da Milano. La mia storia è un po' comune a quella di tanti altri, nel senso che è arrivata alla mia età, 57 anni, dopo aver fatto comunque tante, anche degli interventi, degli impianti, dei dentisti italiani, quindi c'è stato il rigetto più volte, di conseguenza a me avevano per l'ultima spiaggia consigliato di mettere una protesi mobile. Questa cosa assolutamente non l'ho fatta, non accettavo psicologicamente questa cosa, per me era terribile e allora siamo arrivati fino a qua, il mio compagno ha cercato un po' su Facebook, siamo venuti qua un po' alla cieca, anche se eravamo documentati. Già da Milano, facendo una panoramica, mandando una panoramica a Palmas, ci aveva fatto un piano di studio di cura e niente, abbiamo accettato subito. Per me è molto importante sorridere perché è proprio una comunicazione che ho con l'altra persona. Prima sorridevo però avevo sempre questa, psicologicamente era un po' così. Vivere con i problemi mentali è un tarlo continuo, dalla mattina fino a quando dormi per me, io l'ho vissuta così. È una clinica bellissima, attrezzatissima, ordinatissima, eccezionale, veramente. La Moldavia è ancora più spettacolare, secondo me, perché io amo questa gente, anche perché a Milano ho delle amicizze moldave, ucraine, russe, sono le mie migliori amiche queste in Italia. Quindi qua è come ritrovare le mie amiche. Avete un cuore aperto che non è così per tutti in Italia. Siete capaci di amare. La stessa sensazione l'ho sentita in clinica, con la maggior parte di voi, sia uomini che donne. Io assolutamente consiglio a tutti di venire qua, in Moldavia. Perché? Perché secondo me è il massimo. La stessa sensazione l'ho sentita in clinica, con la maggior parte di voi, sia uomini che la maggior parte di voi, sia uomini che la maggior parte di voi, sia uomini che la maggior parte di voi. Grazie.